Bambini, state a sentire, lo sapete cosa fanno le astronavi negli spazi siderali? Beh, escono dalle navi spaziali, girano, girano per entrare nell'iperspazio. E poi, quando sono entrate tutte, ecco due altre astronavi che escono a velocità positronica e si immergono nel mare galattico per sparire definitivamente. Intanto le navi spaziali... Ma che navi spaziali? Tu ci mangi tutti i biscotti! Plasmon, biscotti per diventare grandi che piacciono anche ai più grandi. Biscotti Plasmon, ricchi di proteine e di vitamine del complesso B.